Da quasi un mese il Lab Fiera ha effetto ai sierologici, come sta andando? Qual è stata la risposta della cittadinanza in questi primi giorni? La risposta è stata particolarmente importante, attenta, abbiamo avuto già più di 600 richieste, credo che finiremo il mese con 700 e quindi questo già è un primo segnale, ora ovviamente ci prendiamo del tempo anche per esaminare i campioni ricevuti e poi a giugno faremo un'altra sessione proprio per coloro che non avessero avuto la possibilità di farlo nel mese di maggio. Quindi va ovviamente secondo quella che è l'indicazione di differenziare ancora di più le attività che arrivano all'interno della struttura fiera e nelle prossime settimane avremo anche una riorganizzazione complessiva di tutti i punti vaccinali dell'area metropolitana di Messina. Ricordiamo che l'esame è gratuito ed avviene solo tramite prenotazione, come funziona? Assolutamente sì, è gratuito, avviene tramite prenotazione, abbiamo attivato la nostra piattaforma, la possibilità ovviamente di prenotarsi e venire tranquillamente qui all'interno della beffiera per il prelievo e quindi poi ovviamente il test che andiamo a realizzare. Quali sono le domande più frequenti degli utenti? Cosa li spinge a fare questo esame? Ma tendenzialmente molti sono legati al fatto di essere informati se sono venuti a contatto ovviamente con il virus, se in qualche modo possono essere sottoposti eventuali reinfezioni, quindi in qualche modo tutti si è preoccupati di non avere più il contatto con il virus. e quindi tutto quello che può venire fuori dal test che può ancora di più rafforzare l'idea dell'importanza della vaccinazione, poi alla fine è quello che più interessa alla cittadinanza.